Un premio dedicato ai giovani colleghi giornalisti ma anche a chi vive la professione in maniera viscerale. Torna per il tredicesimo anno consecutivo il premio Franco Landolfo, ospitato come sempre dall'Istituto di Cultura Meridionale dell'Avvocato Gennaro Famiglietti. Il riconoscimento ricorda e valorizza l'impegno nella professione di Franco Landolfo, segretario dell'Ordine dei giornalisti della Campania, già vice direttore del Quotidiano Roma, fondatore e presidente di Arga Campania scomparso nel 2006 a organizzare la premiazione Geppina Landolfo. Vuole essere un momento di confronto tra i giornalisti sulla professione proprio per avere poi quella cosa da raccontare fuori e in un momento come questo di crisi per il lavoro diventa sempre più importante creare secondo me momenti come questo. Tanti premiati per la carta stampata ex equo Emanuela Sorrentino del Mattino e Valentina Tafuri di Donna Moderna. Per la radio e televisione premiate Lidia Scognamiglio, Medicina 33 e Lilli Viccaroteo del Mezzogiorno Italia TGR. Per il web Claudia Clemente dell'Ansa e Oscar Maresca di Gazzetta.it, targa Giampaolo Necco al collega di Canale 21 Antonio Salamandra. Menzioni speciali per Emanuela Vernetti, l'aria che tira la sette e Claudia Sparavigna di fooddando.it e Massimiliano Cassano di qualenergia.it. Premio alla carriera per Umberto Belpedio. A consegnare i riconoscimenti tra gli altri Ottavio Lucarelli, presidente regionale dell'ordine dei giornalisti e il presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti Carlo Bartoli. Premio mirato sui giovani perché proprio Franco Landolfo ha dedicato gran parte della sua vita proprio ai giovani giornalisti. È un'esperienza che nel ricordo di un grande giornalista incentiva e dà speranza e dà impulso a tanti giovani e non giovani perché è giusto dare a tutti i colleghi una possibilità di venire alla ribalta e dà una speranza, dà una voglia di lavorare, di approfondire.